Musica Ok ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale Sono JoePag17 e oggi siamo tornati su Spec Ops The Line per un altro episodio L'ultima volta ci eravamo lasciati qua dopo che il capitano Walker era praticamente rimasto quasi ucciso Dall'esplosione del camion che trasportava acqua Siamo praticamente da soli senza, mi sembra, armi E dobbiamo cercare di riunirci alla nostra squadra Allora andiamo subito avanti Sì è praticamente mezzo morto il nostro personaggio E qui ci sono dei civili, mi sembra Speriamo non ci attacchino Ma sto tizio qua ce l'ha con noi? Ok Fate finta di niente, io non esisto Ma dai ragazzi, siamo a pezzi Non abbiamo un'arma, non abbiamo niente Abbiamo perso praticamente tutto Vediamo dove ci conduce questo corridoio Ok Ok Oioioioi Tieni duro, ti tirerò fuori da lì È un po' incastrato ragazzi, è il nostro amico qua Chissà che caspita Ma è uno della nostra squadra Lascia stare, non importa Ah no ragazzi Ecco cosa importa Era L'infiltrato Non è così Non so se, non mi ricordo bene se era l'infiltrato della CIA forse Senti Se si scoprisse cosa ha fatto L'intera regione ci dichiarerebbe guerra E perderemmo Ora Nessuno lo saprà mai Sei pazzo Che strano Gould ha detto la stessa cosa Ciò che ho fatto non era bello Ma era giusto Tra l'altro Non è che me ne stia andando da qui Ok Sta morendo praticamente Ci ha dato la sua pistola Ma perché devo ucciderti? Vabbè che sì Che oramai è condannato Praticamente Vabbè Addio amico Aveva proprio solo un colpo Ammazza Proprio tutto contato Ah ok Per quello che ci ha chiesto di ucciderlo Perché praticamente Sennò sarebbe morto bruciato vivo Vabbè ragazzi Abbiamo perso un altro Alleato Proseguiamo Finalmente abbiamo un'arma almeno Vediamo Questi qua Se ci possono dare qualcosa Ammazza che strage ragazzi Bello che hanno perso tutti il fucile No non è uno dei nostri Ok No tranquilli Tranquilli Beh almeno i nostri compagni di squadra Sono vivi ragazzi Dannazione Tieni duro Lugo Arrivo Farò in modo che abbia il messaggio Vai a fare in culo Calma calma Non diciamo parolacce amico Questo dopotutto È un programma destinato a tutti Come Tutti Hanno sete Oh finalmente abbiamo trovato delle munizioni ragazzi Ok stiamo solo attenti Dove suono ragazzi Dove suono ragazzi? Ma è andato fuori di melone il nostro amico Ok ragazzi eccoci qua Forse abbiamo trovato i nostri alleati Ho detto silenzio Walker se riesci a sentirmi Oh Ho preso Lugo Il trentatresimo mi ha inchiodato Non riesco a raggiungerlo Mi servi qui ora Riesci a sentirmi felette? Non sto scherzando Si arrenda subito O il sergente Lugo muore Avanti Walker dove cazzo sei finito? Preso Preso Perfetto ragazzi Dai 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 Stai giù Stai giù Stai giù Stai giù Cacchio 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 Mi stanno mirando Oh 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 Stai giù Ok prendiamo questo Aspetta Aspettate un attimo Che mi ristabilisco E Provo a far fuori Quelli là Preso Preso Facciamo fuori Questo qua da qua Preso Preso Dai che ancora 15 colpi Preso Preso Oh quello lì Quello lì è morto malissimo Oh aspettate Ci sono munizioni qua finalmente Perfetto Perfetto Adesso abbiamo munizioni anche per il Per Sia per il fiscile Sia per la pistola Prima dobbiamo uscire dal centro Vedete un vado per attraversarlo Preso Preso Ah devo aiutarli ragazzi Devo aiutarli dalla distanza Niente ricarichiamo C'era ancora uno da abbattere E vabbè però Ragazzi mi togliete tutto il lavoro E Come faccio per raggiungervi Stai giù Ok Adams e Lugo No 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 Cosa caspita Ah ok Perfetto ragazzi Grandissimi Ok Passiamo di qua Però Ricarico Mettiamoci la pistola va Anche se Magari quasi quasi Era meglio prendere il fucile Nemici sulla destra Ok Allora io tengo Questo qua Allora Ho una domanda per voi Quali sono le otto parole Che conoscete Che fanno più paura Siamo la Delta Force Siamo qui per salvarvi Ok Stammi andando Metto Stavo ricaricando Perfetto Perfetto Ce ne sono altri Là in fondo Ragazzi Ah no Sono i nostri Perfetto Allora Procediamo Eccoci qua Mamma mia È pieno di nemici Oh guardate qua Un'altra arma Perfetto Sostituisco la mia Magnum Tanto là sopra Vedo dei cecchini Distruggiamo Ragazzi qua Il tetto Così Ah guardate Non gli ho Non gli ho praticamente Fatto niente Ragazzi Ok Preso in testa Allora ragazzi Ci lanciamo giù Con il nostro Fucilazzo a pompa Che abbiamo trovato Caspita ho dimenticato Le munizioni Vabbè Non importa Pazienza Ok Ok Preso Forse un po' troppi Colpi di Fucilazzo A pompa Hop Hop Eliminati tutti e due Madonna ragazzi Quanti ce ne Uo Coragli è saltato Completamente la testa Preso Preso Uccidetelo 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 ragazzi Uccidetelo Preso C'è ancora qualcuno Sì Ce n'è ancora un paio Che stanno arrivando Allora Sapete cosa utilizzo Utilizziamo Questo Magari Se lo centriamo Al primo colpo È meglio Preso Ok Ragazzi Allora Io direi Quasi quasi Di cambiare E prendere Le mitragliette Perché Il fucile Ha Da cecchino Non so se ci servirà Ancora Allora Dobbiamo andare Di qua Oh Qui ci sono munizioni Perfetto Prendiamole Ok Qui c'è qualcuno Sì Ucciso C'è un altro Qua Perfetto Preso Fucilazzo A pompa Che caspita Sta succedendo Ragazzi Perché Ci sono Merda Dove sei Ti prendi in giro Non ho bisogno Di queste cazzate Stai fermo Dannazione Oh Sto morendo Sto morendo Sto morendo Ho detto che ci sta lavorando Dove Caspita Ricarica 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 Ha battuto Oh Finalmente Madonna Che noia Quelle luci Ragazzi Che noia Veramente Allora Prendiamoci la sua Mitagliatrice Che Secondo me È molto più potente Tanto eliminiamo Ste statue Che danno noia Munizioni Eccole qua Perfetto Basta Mi dannoia Ste statue Oh Questa qua È indistruttibile Ok Attenzione Uh Ci sono i soldi Preso C'è l'omino qua Preso Allora Aspettiamo un attimo Prima di uscire Perché Sto praticamente Morendo Assicuratevi di passare A ringraziarli Sono stupido La sostruzione Ok Prendi pure le bombe Non lo so Sentiamo le palle Abbiamo superato È pronta Ok Addio le gambe Ecco Preso Forse è meglio utilizzare La mitagliatrice Ragazzi Però qua Ricarica un attimo Ragazzi Dove siete? Boh Abbiamo raggiunto Il checkpoint Ragazzi Questo lì Quello qua Era abbastanza duro Munizioni Sento altri spari Tenete duro Ci sono Oh 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 Qua dietro Qua dietro No Usiamo il fucilazzo a pompa Che Peccato un altro Perfetto Quello là è un po' più distruttante Però lo prendo Caspita Non è che muore Aspetta Madonna se ci sta Mettagliando Ok Perfetto Non mi ero accorto che c'era una vetrata dietro Comunque l'abbiamo utilizzata Per eliminare i nostri nemici Cosa sta roba Ah ok ok Per saltare Le varie Panche Ci troviamo Su Cammino C'è qualche nemico qua No 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 Oioioioi Aspetta Tese A terra Stai giù No 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 Via 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 Caspita Devo andare giù Devo andare giù ragazzi Perché è pieno È pieno È pieno È pieno Di soldati Sopra È pieno È pieno Di soldati Allora Aspettate un attimo Ricarichiamo questa qua Ricarichiamo questa qua E poi andiamo sopra Caspita È pieno È pieno Prova a lanciare comunque una bomba Non gli abbiamo fatto niente Perfetto Abbiamo abbattuto quello della corretta Ci mettiamo qua Facciamo fuori sti due qua Bravo grandissimo Ok li abbiamo salvati Bello è sparito In modo fantastico quel soldato No 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 Ok ragazzi siamo arrivati qua Li ho eliminati tutti Però ce ne sono altri Se magari ci diamo un andi maggiore Magari acqua Scorriamo acqua i soldati Eccolo Mamma mia ragazzi è pieno di soldati Il problema è che non li vedo Non li vedo Sto sparando una scossa dietro la torretta ragazzi Perché se no Non è che sia molto comoda Però sto in corretta ragazzi Devo dirvi la verità Facciamo una cosa Sto Mi nascondo qua dietro Se riesco Ok Ok Perfetto Ah guardate ci sono tutte le Le bombe da fare esplodere Ok C'è un'altra là Perfetto Dai che facciamo fuori un po' di gente Così siamo anche percibili Oh è resistente C'è ancora qualcosa Secondo me Sì Ok Abbattuto Ce ne sono due là Proviamo a utilizzare La granata Che mi era rimasta Vediamo se ce la facciamo Secondo me no Proviamo così No Quelli lì sono i miei Scusate ragazzi Ho sbagliato a mirare ragazzi Oh è resistente Madonna ragazzi Si sono resistenti Oh ti ho preso Mi Che mi segnala Ok Ok Eliminato Eliminato C'è ancora uno là sopra Ragazzi lo so Potevo utilizzare la torretta Per la più facile Così Quasi quasi Ok Da dove caspito Sparano Ah Io ho messo Uno Libera Due Ok Morto Perfetto Gli abbiamo liberato la strada Così i nostri Possono scendere Noi dove dobbiamo andare Attenzione Mucinieri In movimento Uno in movimento Oh Beccato un altro Ce l'è una Di c'è la terra Se l'è inchianato Mucinieri Stimini Puttani Guarda dove cazzo Sparivork Ha capito Ne hai uno là Che ti stava ammazzando Ok 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 Ha battuto Andate ragazzi Andate 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 Non vedo Nessuno Preso in testa Che colpo Un altro Peso sulle scale Questi due Sono benici Oh 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 Ne arrivano due Pesanti Ok Uno mi sa che è andato Perfetto ragazzi Li abbiamo battuti Tutti e due Pesanti Preso 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 Non stare un po' A caso Madonna Quanti caspiti Soldati del Trentatresimo C'era Pazzesco Pazzesco Pieno 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 Oh Ragazzi Pieno Sto eliminando tutti Però Fai saltare la porta C'è qualcuno che mi spara Perfetto Abbattuto Uno dei loro Che rompe le scatole Oh 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 Preso Andiamo Andiamo sul tetto Coprici Oh Merda Io vi copro ragazzi Però è un po' Un massacro Preso L'altro Dov'è No no E sono con noi Preso Ah Sono tutti sul tetto Ragazzi Sono tutti sul Tutte le barriere Tutte le barriere Che avevano Ok Abbattuto Abbattuto Madonna ragazzi Sei difficile Sto missione Poi quanti Caspita di soldati ci sono Uccellieri in movimento Dobbiamo batterli Noo E' pieno Caspita Due sono andati sul tetto Venite di qua Ragazzi Venite di qua Scusa Ai 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 Scusa Tutto ok Ce l'abbiamo fatta Missione finita Terminata Ciao ragazzi E' bello rivedervi Cosa Caspita Ok Cazzin Che caspita è? Ma è uno del trentatreesimo? E' un po' incazzato Walker Non vuole più giocare al soldato Come ti chiami? Sergente maggiore Josh Forbes Matricola 867 Non sei un prigioniero di guerra Per quanto mi riguarda Non sei nemmeno un soldato Non puoi Posso fare quello che voglio Ora Lo stronzo alla radio Da dove trasmette? Il DJ E' al sicuro Non arriverete mai a lui E' un problema mio Non tuo Bravo Vedo quelle buone Riusciamo a farti parlare Tranquillamente Lugo Se raggiungiamo la torre Pensi di poter usare Il sistema radio Un'evacuazione di massa In arrivo Non ci sarà nessuno Da evacuare Prego Avanti capitano Siamo nel deserto Quanto pensate che Sopravvivrà a questa gente Senz'acqua Gesù Il colonnello Voleva solo Tenere in vita La gente Ricordate Lo terremo a mente La prossima volta Che provo Ciao bello E' abbastanza incazzato Walker Ok ragazzi Direi che L'episodio di oggi Può terminare qua Aspettate un attimo Eccoci qua Ah che battutona Non sono molto preoccupato Devi aspettarti di tutto Adams Adattarsi e sopraffare Stronzo Ehi Con qualsiasi mezzo Ok ragazzi Direi che l'episodio di oggi Può concludersi qua Abbiamo terminato Il capitolo 11 Mi raccomando Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Ne abbiamo passati In tutti i colori Oggi Quindi Direi di salutare Il capitano Walker E ci vediamo Nel prossimo episodio Sempre qui Su Spec Ops The Line Alla prossima ragazzi Alla prossima